Scusa, perdona, me non ho capito, dicevi? Ho detto che era roba vostra, me la sbatta al cazzo. Andò? Andò me la sbatti? E dimmelo che t'avano che passa aerea. Ok, ok, dimmi quello che tu vuoi. Ecco, bravo, ora dove spiegare il sorcio. Ma perché? Te andò vai. Perché te lo devo dire? A me lavoro ma rapa. Grazie a tutti.